Vedi, come affrontare i grandi problemi della mia vita? Non ci sono grandi problemi nella tua vita. Qualcuno deve aiutarmi a capire questo. Qual è il grande problema di cui stai parlando? Si tratta solo di quale lavoro prendere, quale ragazza sposare. È più o meno questo. Dove andare in vacanza. Se sposarsi o non sposarsi, sai, le cose sono queste, non è così? Questi non sono grandi problemi, queste sono piccole cose nella tua vita. Sì, oh, è solo una piccola cosa con chi mi sposo? Non dico che sia una piccola cosa, ma in quanto problema è un problema piccolo, un problemino. Ha conseguenze per la tua vita? Sì, ha molti aspetti. Ma questo è qualcosa che gli esseri umani hanno fatto per milioni di anni. Abbiamo sufficiente esperienza di queste cose, non è così? Sappiamo che qualsiasi lavoro prendiamo, chiunque sposiamo, è semplicemente cosa ne facciamo. Ogni esperienza di vita puoi trasformarla in un'esperienza arricchente. Ogni esperienza nella tua vita puoi trasformarla in una maledizione. Vedi, non c'è niente di sbagliato nel tuo lavoro, qualsiasi lavoro tu faccia. Non c'è niente di sbagliato nel prendere questo lavoro, niente di sbagliato nel perdere questo lavoro. Non c'è niente di sbagliato nel lo sposarsi, niente di sbagliato nel divorziare, niente di sbagliato nel non sposarsi. Non c'è niente di sbagliato in niente, non c'è niente di sbagliato in questo o quello, ma è solo che lo trasformi in sofferenza. Questo è sbagliato. Se fai questo, lo trasformi in sofferenza. Se fai quello, lo trasformi in sofferenza. È questo che è sbagliato in te. Quindi ti sei sposato, è sbagliato? Non è questo il punto. Non c'è niente di sbagliato in questo. Non ti sei sposato, è sbagliato? No, non c'è niente di sbagliato in questo. Anche questo è meraviglioso. Hai divorziato e sbagliato? No. Anche questo è meraviglioso. È solo che trasformi ogni cosa in sofferenza. È questo che è sbagliato. Affronta semplicemente questo unico problema. Ogni cosa si sistemerà. È questo che stiamo osservando. Come non trasformare ogni cosa in infelicità? Se questa cosa è sistemata, ogni cosa è sistemata. Non è così? Sì. Se sai come attraversare questo mondo gioiosamente, attraverso il matrimonio, il divorzio, il celibate e ogni cosa, se sai come attraversarlo gioiosamente, qual è il problema? Qualsiasi cosa tu faccia è bella, non è così? Questo vuol dire che vivere tutta la vita felicemente, senza realizzazione, è sufficiente? Quello viene dopo. Se non sai nemmeno come essere felice, non avere tali obiettivi come la realizzazione. Sono molto lontani da te. La felicità è solo uno stato d'animo. E ti stai semplicemente liquidando qualcosa di davvero fondamentale per la tua vita con una stupida definizione. La felicità non è solo uno stato d'animo. È semplicemente la base della qualità della vita che vivi qui. Non è così? È una cosa così piccola la felicità? Oh, è solo uno stato d'animo. È una piccola cosa? È il problema più grande, non è così? Ma non serve niente per... Nel tuo libro hai scritto che questa è la cosa minima da fare nella vita, essere felici. E se lo faccio per tutta la vita, avrò realizzato la mia vita? No. No, non ho detto questo. Ho detto, se quello non è possibile, dimentica la realizzazione e tutte quelle assurdità. Non è nemmeno nella tua sfera. Se sei in grado di attraversare questo mondo gioiosamente, allora potresti parlare di andare oltre. Se non sei nemmeno in grado di attraversare questo gioiosamente, parlare di ciò che è oltre è inutile. Non c'è modo, te lo dico. Semplicemente non c'è modo. Per una persona che crea costantemente delle battaglie interiori tutto il tempo, come affronterà i vincoli della vita e come li trascenderà? È fuori discussione. Non sussiste nella tua vita. Quindi la prima cosa è lavorare per essere un essere umano beato. Se quello accade, il resto diventa molto semplice. Perché un essere umano beato, una volta che la tua felicità non è in gioco, qualsiasi cosa serva la farai. Non è così? In questo momento non puoi fare ciò che serve, perché la tua felicità è sempre in gioco. Pensi qual è la cosa giusta da fare, qual è la cosa giusta da fare. Non c'è nessuna cosa giusta da fare nella tua vita. Non c'è nessuna cosa sbagliata da fare nella tua vita. Se sai come non trasformare ogni cosa che fai in infelicità, qualsiasi cosa fai è la cosa giusta. Se trasformi ogni cosa che fai in infelicità, ogni cosa che fai è una cosa sbagliata. Quindi questo è l'unico problema che devi osservare. Le altre sono tutte cose da poco. Cosa importa in che modo le fai?